Fredi, se ieri abbiamo vinto e il risultato contava poco, conta poco anche oggi che abbiamo pareggiato perché la prestazione è stata certamente migliore. Sì, in difesa abbiamo giocato molto molto meglio di ieri, in attacco abbiamo avuto moltissime difficoltà, anche se siamo riusciti a creare, abbiamo sbagliato tantissimo nella realizzazione, 4 rigori, 4 tiri dai 6 metri, quindi sono 8 tiri, comunque mi è piaciuta la reazione dei ragazzi, non hanno molato, hanno creduto fino alla fine e nonostante tutto alla fine potevamo anche vincere. Su tutti forse un altro Tokic decisamente stasera. Sì, secondo il tempo di Tine è quello vero, da lui ci aspettiamo questo tipo di gioco, speriamo che possa continuare così. Piccolo bilancio, dalle prime amichevole della stagione con Israele a queste contro il Belgio? Stiamo crescendo specialmente dal punto di vista del gruppo, oggi non sembrava un amichevole, era veramente una partita tosta e riuscire a non perderla, nonostante le difficoltà che avevamo, è una grande cosa e quindi ci sono ancora tantissime riserve, specialmente nel gioco d'attacco.